Diego Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almaracco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo una quercia colpita dal fulmine tutto qua sembrava una figura umana viva il fulmine ha un potere che va al di là della nostra immaginazione sì ma la nostra immaginazione non è forse più potente il fulmine ha distrutto l'albero è la nostra immaginazione che gli ha dato vita al manacco di bellezza 9 luglio Piero Maranghi Leonardo Piccinini è comprensibile che la vita della scrittrice che ha inventato ha inventato diciamo che si potrebbe dire che l'hanno inventato il gotico a più umani il gotico il gotico ma non il gotico l'arte gotica il genere il genere gotico il gotico sia praticamente è giusto così un assoluto mistero al punto che pensate la poetessa cristina rossetti 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 ha dovuto rinunciare a scrivere la biografia perché si è scoraggiata di fronte all'inaffidabilità delle fonti certo e quindi di fronte a queste informazioni inversamente proporzionali alla fama della nostra protagonista ha mollato eppure stiamo parlando di una figura centrale nella letteratura non solo inglese soprattutto diciamo per il ruolo che ha avuto nell'influenzare l'ottocento Anne Radcliffe che nasce oggi il 9 luglio appunto del 1764 quindi abbiamo anche un anniversario tondo sei contento beh mi piace 260 anni e quindi cosa non so faccio un regalo una festa sì per fare feste noi siamo sempre punti a Holborn di cui parlammo recentemente perché la centrale elettrica di Holborn si contendeva il primato con quella di Santa Radegonda di Santa Radegonda dell'insegnere Colombo e The Old English Baron del 1777 di Clara Reeve sono i primi esempi popolari del genere gotico gothic horror classic tra l'altro quando io penso al castello di Otranto penso sempre al duca d'Otranto cioè a Fouché fatto duca d'Otranto da Napoleone poi sono sempre ambientati in Italia perché per il protestante l'Italia era il luogo dove succedevano le cose più turpi c'erano i veleni c'era Lucrezia Borgia che non moriva mai io alzo la mano perché i Borgia anche se come dire cerco la fede ma mi sento profondamente cattolico sei un po' Borgia no non sono Borgia ma vorrei ricordare che le cose più turpi succedono da loro che non hanno il bidet no no il bidet ah proprio quello sono per il bidet quindi ancora adesso ancora adesso ancora adesso lei viene omaggiata da Sir Walter Scott Ivanhoe Ivanhoe che la definisce la fondatrice di una classe o di una scuola dalle informazioni che abbiamo sappiamo che era figlia unica sia il padre che la madre sono imparentati con professionisti affermati il cugino della madre è il medico di casa Hannover di Giorgio III e ne aveva di cose da fare ne aveva bisogno perché il medico di Giorgio III il povero Giorgio III era un luminare e Thomas Bentley che non c'entra con l'automobile ma c'entra con i piatti sì io ce li ho i Wedgwood mamma mia che servizi con le righe bianchi azzurri allora spesso ospite per lunghi periodi di questo zio lei pare che ancora giovanissima abbia conosciuto alcune figure dell'elite intellettuale londinese come Elizabeth Montague ha solo otto anni quando la famiglia si trasferisce a Bath posto di rara eleganza con l'architettura neoclassica degli Adam il padre dirige diciamo una rivendita appunto di Wedgwood tu hai detto l'architettura degli Adam ci sarebbe da dire dagli Adam alla famiglia Adams sì perché il gotico la casa si trova in Milsom Street nella zona dove si trovano anche le biblioteche circolanti e la bambina trova il pane poi sappiamo che a Bath nel Somerset piove molto quindi si legge tanto si legge molto è per questo che il grado di analfabetismo della Spagna, della Grecia e dell'Italia puntini puntini l'errodo sole, l'amore allora anche qua lei frequenta un'altra autrice pseudo-stoica, Sofia Lee e questa circostanza è favorevole nella formazione della futura scrittrice nel 1787 sposa William Radcliffe questo matrimonio è ostacolato dalla mamma di Anne che si chiama Anne a causa delle opinioni politiche radicali del marito che faceva in più il giornalista quindi doppio peccato sì abbiamo parlato recentemente del caso di Percy Shelley del fatto che insomma le idee troppo libere non piacevano nell'Inghilterra in più aveva un'ulteriore macchia da farsi perdonare il ragazzo perché aveva studiato a Oxford e doveva fare l'avvocato ma poi aveva deciso di abbandonare quella strada e si era messo a fare il giornalista beh insomma oggi sarebbe il massimo oggi non mi fai parlare che sono arrabbiato oggi leggerebbe intercettazioni cosa fanno i giornalisti in Italia? no non tutti certo perché poi con tutti gli amici che abbiamo Marta Cagnola Marta Cagnola infatti non legge le intercettazioni ma non si occupa di quella roba lì va bene boccaccia mia come si vede è un ambiente standing e i timori della madre si riveleranno infondati perché il genero diventa in seguito il proprietario dell'English Chronicle dell'English Chronicle ma dopo il matrimonio le informazioni su Anne passano praticamente da poche a inesistenti anche se per aspetti intuitivi si immagina un matrimonio felice e un marito che l'avrebbe incoraggiata all'attività letteraria di sicuro condividono la passione per i viaggi e infatti nel 1794 insomma anni in cui proprio viaggiare non era il bassivo perché intraprendono un viaggio per l'Olanda e per la Germania tra un rivoluzionario e l'altro e appunto devono guardarsi anche dallo schivare le operazioni belliche sì c'è anche da dire che non erano operazioni belliche tipo seconda guerra mondiale erano piccole scaramucce in fondo e lei peraltro aveva già scelto un altro anno fatidico perché nel 1789 aveva esordito con un modesto successo letterario anonima The Castle of Athlean and Dunbane storia di due clan scozzesi è un po' Romeo e Giulietta Capuletti e Montecchi dove per la prima volta incontriamo il tema di una donna imprigionata e privata dei diritti e della libertà da lì è un attimo passare dalla Scozia che è terra di grandi passioni alla Sicilia romanzo siciliano 1790 dove la protagonista una donna Giulia affronta il destino di un matrimonio imposto dal tirannico padre il nome poi è fantastico il marchese di Mazzini di Mazzini che non c'era ancora non c'era Pover Mazzini Giuseppe non era ancora nato Mazzini 15 anni dopo il successo vero arriva con il terzo romanzo il romanzo della foresta 1791 dove un castello gotico diventa il personaggio centrale certe volte io ho molta paura di lampi è una scarica atmosferica nient'altro niente di cui impaurirsi lupo ulula lupo ulula la cosa? lupo ulula e castello ululi ma come diavolo parli? è lei che ha cominciato no non è vero ecco la vena gotico romantica ha bisogno di un'ambientazione adeguata e la Radcliffe sceglie immancabilmente l'Italia che non ha mai visitato però che lei immagina ispirandosi a questi dipinti paesaggistici di cui erano piene le collezioni inglesi dell'epoca quelli di Claude Lorrain Claude Gelé di Lorrain il lorenese e Salvatore Rosa che non è una donna Salvatore Rosa no con tutti i suoi mostri le streghe Salvatore Rosa è come Miss Van Der Rohe non è una donna diciamolo il pubblico lo sa ma gli animali chiamavano Salvatore Rosa no non è quello senti e poi arrivano i misteri di Udolfo 1794 un libro che fa veramente faville incassa 500 sterline e rimane ancora oggi il più famoso anche perché l'eroina Emily Santobart rinchiuso nello scuro castello del malvagio Montoni Montoni sono anche quei nomi che si trovano nell'opera poi sì sì Monteroni Montoni è fonte di ispirazione per il romanzo L'abbazia di Northanger di Jane Austen quindi è chiaro che siamo in un mondo pre-romantico è stato anche definito questo tipo di letteratura questo soggetto al centro delle opere della nostra Radcliffe il sublime dell'orrore castelli protagonisti maledetti tempeste tutto ciò che può generare inquietudine e o paura paura senti sempre dagli e con gli italiani l'italiano ovvero il confessionale dei penitenti neri 1797 è l'ultimo dei romanzi che viene pubblicato in vita e che verrà pagato 800 stegline dove abbiamo un altro bel nome italiano lo schedoni c'è un grande pittore Bartolomeo schedoni ma non c'entra che è l'inquisitore l'inquisitore ovviamente c'è sempre la chiesa la Radcliffe è la capostipite del genere thriller ci avevi mai pensato no cago Leonardo ecco e probabilmente è disgustata dagli altri da tutta questa messe di scrittura gotica tra cui ad esempio il monaco 1796 di Matthew Lewis e a soli 33 anni si ritira dalla scena letteraria anche se tra il 1802 e il 1803 scrive un nuovo romanzo Gaston de Blondville per fortuna si va in Francia però diciamo la vena letteraria non è più quella di un tempo infatti verrà pubblicato postumo dal marito senti che cerca di incassare no ma per onorare la sua memoria ecco cosa avevi capito non si hanno più notizie e ci sono molte voci del tutto infondate sulla sua cattiva salute o anche sulla sua morte si parla anche di fantasmi a fondo certo ma quelli sono anche qua sì quindi questi anni sono avvolti nel mistero alcuni hanno sostenuto fosse impazzita a causa delle fantasie gotiche alcuni dicono che fosse stata incarcerata in un manicomio del Derbyshire del Derbyshire ma in realtà molto probabile che lei goda la sua fortuna è quella del marito è ancora viva fa l'editore viaggiando però c'è traccia di una malattia perché dai 12 anni lei soffriva di asma e infine a Holborn era nata e a Holborn si spense si dice poi è interessante che per dare l'idea di che cos'era la Londra di allora Holborn era un quartiere semi periferico diciamo oltre a Holborn iniziavano le campagne oggi è pieno centro avere una casa a Holborn è tanta roba lui ce l'ha ma non vuole dirlo magari senti quando muore una rivista scrive non appariva mai in pubblico né si mescolava nella società privata ma si teneva in disparte come il dolce uccello che canta le sue note solitarie avvolto e invisibile pensi a Leonardo che ieri io sono entrato in una chiesa e hai pregato ad Ancona e ho visto la circoncisione di Orazio Gentileschi vedi come siamo sempre perfetti sì e Orazio Gentileschi nelle Marche ha lasciato tante opere e questa è una chiesa che si apre grazie ai volontari del Fondo Ambiente Italiano quindi salutiamo Marco Magnifico è una chiesa bellissima su progetto di Van Vitelli e la chiesa è la chiesa del Santissimo Nome di Gesù un capolavoro di Van Vitelli l'abbiamo segnalata proprio parlando di Luigi Van Vitelli che ad Ancona ha lasciato cose molto importanti tra cui la mole Van Vitelliana ma perché mi vuoi parlare di Gentileschi? perché anche lui nasce il 9 luglio ecco nel 1563 e il caso vuole che anche lui sia morto dove? a Londra a Londra quindi vedi che è una puntata molto londinese molto londinese allora innanzitutto occorre fare una premessa sì Orazio Gentileschi è un grandissimo artista è il papà di Artemisia ecco viene un po' oscurato da Artemisia è una grande pittrice grazie però soprattutto è donna e poi ha ricevuto anche l'abuso che tutti conosciamo dal Tassi dal Tassi dal Tassi che era amico del papà che era amico del papà una storia bestiale poi lei dice di fare il processo ma parliamo di lui per una volta e poi lei è più sensuale più carnale più intimamente caravaggesca mentre lui è un artista molto complesso con anche varie fasi è un artista molto raffinato e sempre un po' elegante un po' distaccato cioè lui il sangue piace ma fino a un certo punto invece lei è proprio va giù dura va detto che noi dell'Almanacco che scegliamo le nostre battaglie controcorrente abbiamo sempre rivaleggiato questa impostazione moderna che vuole maggiore la figlia al padre almeno non così totalmente lo è maggiore sì sì è un punto d'onore per l'Almanacco i gentileschi sono stati due pittori quindi ugualmente importanti quindi se trovate un gentileschi padre o figlia che sia mandatelo poi mandatelo che noi prendiamo allora Orazio nasce o forse viene battezzato questo non è chiarissimo il 9 luglio del 1563 a Pisa a Pisa tanto si chiamava Orazio Lomi Gentileschi per cui c'è anche un fratello come dice ma è Aurelio Lomi perché è fratello di Gentileschi perché Gentileschi era il nome della mamma c'è questo fratello meno importante però un grande artista Aurelio Lomi anche questo se trovate un'opera di Aurelio Lomi mandatela perché non è male senti lui nasce a Pisa anche se il babbo era fiorentino in Lomi e spiegheremo la ragione del cambio di nome il padre di Orazio fa l'orefice cosa non troppo insolita nelle vite degli artisti e a un certo punto lui torna a Firenze portandosi anche anche la famiglia e Orazio cresce e si forma artisticamente nella capitale toscana e se lo guardate con attenzione se guardate i pittori toscani tra 5 e 600 vedrete uno sfolgorio di colori veramente una tavolozza molto ricca che è tipica della pittura toscana senti lui cresce con il fratellastro che tu hai citato appunto Aurelio Lomi che era più grande e quindi lo influenza e da lui apprende il modo di dipingere le sue le sue figure che sono così nitide così compatte così massicce e anche l'arte del panneggio chiaramente è un artista molto attento molto curioso e molto dotato e capisce che c'è poco da stare lì in Toscana bisogna andare nel luogo nel fulcro nel centro delle arti mondiali a Ponna quasi no a Roma più o meno e va da uno zio materno materno quindi adesso capite il nome che era capitano delle guardie a Castel Sant'Angelo e quindi decide di prendere il cognome dello zio perché insomma a Roma Gentileschi ah sei nipote del Gentileschi può servire può tornare utile è amico del papa Lomi chi lo conosceva allora arriva appunto il nostro Gentileschi non abbiamo una documentazione del suo tirocinio romano ma sappiamo che in modo addirittura definito stupefacente viene coinvolto nelle decorazioni aggrottesche dillo meglio stupefacente stupefacente per i palazzi vaticani il papa e Gregorio XIII sì sono anni diciamolo subito di grandissimo fervore architettonico pittorico i palazzi e le chiese a Roma in quel momento vengono iperdecorate con un gusto che è il gusto stanchissimo del tardo manierismo quindi iperdecorazione ovunque e in questo caso lui viene coinvolto addirittura nei cantieri della biblioteca Sistina in Vaticano da Sisto Quinto Peretti Marchigiano Marchigiano che ce l'hai la peretta la peretta senti lui si trasferisce sui monti Sabini vicino a Roma per dipinge anche due due cappelle di un'antica abazia benedettina e diciamo nelle prime opere no nelle prime opere lui porta con sé ancora accenti della formazione fiorentina però poi incomincia a essere sempre di più autonomo e se stesso 1593 proprio mentre sta lavorando alla presentazione di Cristo al Tempio in Santa Maria Maggiore nasce la figlia Artemisia che di cose ne avrebbe fatte che fu tra l'altro sua allieva prediletta quindi c'è un passaggio di testimone anche però è il momento in cui anche perde la moglie e per i collegarci al romanzo gotico nei misteri di Udolfo il cattivo è il malvagio Montoni e lui sposa Prudenza Montoni Prudenza Montoni vai con Prudenza i due hanno sei figli ma due dei sei muoiono in giovanità negli anni 90 del 500 fu impegnato in numerosi incarichi per affreschi e pale d'altare abbiamo detto c'è un'attività artistica frenetica nella Roma di quegli anni era un artista molto apprezzato molto affidabile anche questo alla committenza piaceva e tra le opere che realizza c'è il San Francesco e l'Angelo ora al Museo del Prado la Madonna col Bambino di Cambridge la Giuditta di Hartford come vedete le opere italiane girano per il mondo e fu uno dei primi insieme a Carlo Saraceni ad avvicinarsi a Caravaggio di cui divenne amico questa è abbastanza diciamo una rarità perché di tutti i caravaggeschi sono poi pochi quelli che hanno potuto vedere e conoscere Caravaggio di persona molti sono rimasti colpiti dall'arte di Caravaggio però senza aver la possibilità di vederlo dal vivo e pensate lui era presente quando vennero svelati al pubblico i dipinti di San Luigi dei Francesi siamo nell'estate del 1600 che emozione lui ha già fatto molto è un artista già con un nome a 37 anni eppure questa rivelazione caravaggesca è destinata a cambiargli la vita è un lampo sì Orazio si rende subito conto dell'innovazione straordinaria di quella pittura del fatto che rispetto diciamo a questa maniera che riproponeva sempre più stancamente gli stessi modelli le stesse rappresentazioni che risalivano a Vasari a Michelangelo a Raffaello qui c'è un'osservazione di ciò che succede nella realtà e quindi gruppi di persone realmente dipinti mentre sono in atteggiamenti precisi un'interpretazione però rispetto a quella di Caravaggio molto più misurata perché lui è un pittore che ha una certa repulsione per il dramma per la violenza e quindi anche lui comincia a dipingere dal vero cioè a seguire dei modelli veri però con una qualche difficoltà perché intanto dovevi cambiare il modo di impostare il lavoro bisognava procurarsi modelli allora chiamavi un amico Piero c'hai tempo oggi pomeriggio devo fare una decapitazione anche altre cose tutta nuda per esempio Piero vuoi fare poi attenzione perché se invece che Piero era Piera lì c'erano dei problemi perché le donne le modelle nude non esistevano allora tant'è che pensate che una delle grandi beh diciamo che una donna onesta che avesse fatto la modella sarebbe stata colpita da un anatema scandalo assoluto sappiamo per esempio Fili de Melandroni la Melandroni che era una delle modelle di Caravaggio era una donna che faceva la vita cioè cioè andava per strada ecco va bene insomma Gentileschi quindi non va considerato un imitatore di Caravaggio ma un artista autonomo che però raccoglie la sfida la nuova sfida di Merisi e questa sfida questo stile riesce a mescolarlo alle altre tendenze molto importanti e anche insomma che riscuotevano l'interesse dei grandi committenti la famiglia Carracci i Carracci e diciamo in senso più lato i bolognesi il clan dei bolognesi lui lavorando al Quirinale a modo di vedere gli affreschi di Guidoreni sulla vita della Vergine quelli di Lanfranco quindi insomma diciamo ha la possibilità stando a Roma di vedere il centro veramente dell'attività artistica mondiale con le varie tendenze senti dall'amicizia con Caravaggio oltre agli scambi stilistici deriva anche una presa di posizione di Orazio Gentileschi rispetto alla vita del pittore amico testimonia infatti a suo favore nel famoso processo che lo vede coinvolto per una diffamazione nel 1603 che era stato intentato dal Baglioni e un altro processo che diventa molto famoso tristemente e lo vede protagonista come quello che riguarda lo stupro lo stupro di Artemisia in seguito al quale nel 1612 Orazio aumenterà sempre di più i suoi viaggi per stare lontano da Roma si starà anche lontano dalle compagnie sbagliate perché Agostino Tassi subisce questo processo e quindi insomma lui sempre di più si distacca dalla città eterna appunto con soggiorni nelle Marche in Toscana e poi diciamo dagli anni 20 in modo definitivo e l'abbiamo detto lui si spegnerà a Londra ma prima passerà anche da Fabriano a Milano possiamo ammirare a Brega la Santa Cecina sì un'opera stupenda è una delle opere più belle della sezione caravaggesca poi dal 1621 al 23 a Genova dove lavora e i Sauli ed è un ambiente molto raffinato quindi in questo ambiente nuovo rispetto a quello drammatico in tutti i sensi romano lui comincia un po' a cambiare il suo stile di lavorare la luce più fredda e più netta voi vedete le opere che realizza in questi anni sono molto diverse da quelle del periodo più propriamente caravaggesco il 1624 lo troviamo in Francia viene chiamato da Maria De Medici sì e poi poi arriva il momento più importante della sua carriera perché nel 1626 è alla corte di Carlo I Carlo I che sappiamo fa quella fine drammatica però ma va molto farsi ritrarre ma va molto farsi ritrarre e è il responsabile di un cambiamento totale dello stile e del gusto alla corte d'Inghilterra perché lui chiamando dei grandi artisti un po' come aveva fatto Enrico VIII con Holbein per dire che aveva saputo rinnovare la pittura inglese e lui chiamando Rubens Van Dyck e appunto Razio Gentileschi riesce a portare Londra al centro della vita artistica internazionale sappiamo che c'era appunto hai citato Rubens e Van Dyck c'è una competizione spietata in quell'ambiente com'è com'è d'altra parte la vita di corte caro Piero che tu ben conosci caro Leonardo è piena di di insidie e sappiamo che lui anche in odio al clima e ai caprici del re e anche allo stipendio che non era proprio il massimo tenta di entrare in Italia ma non ci riesce e a Londra si spegne vicino ad Artemisia che nel frattempo lo aveva raggiunto il 7 febbraio del 1639 e anche per Artemisia fu l'ultimo viaggio siamo arrivati al capolinea perché poi lei sappiamo si trasferirà a Napoli per restarci beh meraviglioso Orazio Gentileschi alle nostre spalle il libro dell'almanacco di bellezza che ha sempre un'utilità e poi oggi martedè ecco fer al fenomen cioè ecco non fare non fare il ganassa il ganassa va bene e tu Leonardo dunque ho visto che hai postato su Instagram la fontana di Ancona la monumentale le 13 cannelle fontana del calamo o delle 13 cannelle è meravigliosa fu realizzata sul disegno di Pellegrino Tibaldi nel 1560 ora tu devi sapere che Pellegrino Tibaldi era della Valsolda la Valsolda sul Ceresio è sulla sponda opposta rispetto a Ponna a Ponna il Ceresio è il lago di Lugano sì intendiamoci c'è Porto Ceresio è chiaro posso dire che Ancona è una città da visitare e rivisitare e stravisitare quanto tempo ci sei stato alla Fontana ad Ancona no poche ore ma hai bevuto anche l'acqua della Fontana ci ho provato ho visto che mi guardava male un vigile è potabile comunque credo di sì state attenti non prendete vi dico un segreto da una delle 13 cannelle ma non posso dirvi quale esce la grappa Varnelli con l'anice meravigliosa di Macerata quindi noi questa puntata la vogliamo dedicare al nuovo direttore artistico dello Sferisterio Paolo Gavazzeni a Maria Mauti che debutta tra 11 giorni per la regia di Norma all'amico carissimo Fabrizio Maria Carminati e alla costumista Nicoletta Ceccolini e un cast strepitoso quindi tutti a Dancone e a Macerata viva le Marche al manacco di bellezza a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini con Lucia Simioni Stefano Puppini Jacopo Milardotti Paolo Faroni Riccardo Cassani Greta Torresi Samantha Chiodini realizzato da Amerigo Daveri Valentino Puppini Luigi Consolandi Stefania Margheritti Alessandro Puppini prodotto da Piero Maranghi una produzione classica HD Sky canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo